Un saluto a tutti i followers di AndroidLive.it Stiamo giocando questo video demo 1080p con la fotocamera da 20 megapixel di Nokia Lumia 930 Il nuovo top di gamma di casa Nokia Iniziamo i nostri test, pan veloce Vediamo se troviamo un soggetto per una messa a fuoco rapida Ok Perfetto Proviamo un contoluce Illuminazione normale Perfetto Questo è un video demo girato con la fotocamera da 20 megapixel di Nokia Lumia 930 Presentato qua a Milano all'evento Nokia Quindi per questo video demo è tutto Un saluto da Shido per AndroidLive.it